e dunque quella del 2016 e direi che dalla mostra del cinema di Venezia è davvero tutto, a te Rina, bacio! Grazie per Paolo per questa bella settimana di cinema, alla prossima! Radio Monte Carlo Summertime Radio Monte Carlo Summertime Summertime Montecarlo per la tua estate Figlio di Poseidone e Arne Due orizzontale e quattro lettere Eolo Eh? Eolo